Si chiama Adriatic Link, sarà lungo a 285 km e coinvolgerà circa 120 imprese per la sua realizzazione. L'azienda Terna S.p. ha avviato la progettazione del nuovo elettrodotto in corrente continua tra Villanova di Cepagatti, in Abruzzo e la città di Fano. L'opera definita innovativa e necessaria aumenterà il transito e la sicurezza dell'energia elettrica dal centro-sud Italia verso le Marche, che con il meno 67% in base ai dati del 2019 è la regione italiana con il più alto deficit tra energia consumata e quella prodotta. Si tratta di un progetto strategico per il sistema elettrico nazionale e in generale per il processo di decarbonizzazione che è in atto e le cui linee guida sono state definite dal Piano Nazionale Energia e Clima, predisposto dal governo italiano, ed infatti quest'opera è stata inserita proprio fra le opere necessarie per il piano stesso. La scelta della tecnologia in corrente continua permette quindi di avere un impatto minimo sul territorio in quanto realizzata attraverso la corrente continua che non determina campi elettromagnetici e con peraltro soluzioni totalmente interrate o attraverso cavo marino. Il tracciato terrestre sarà lungo 35 km, verrà utilizzata per lo più la viabilità stradale esistente, con la posa dei cavi in piccole trincee larghe 80 cm e profonde 1,60 m. Invece la posa dei cavi in mare raggiungerà una profondità massima di 250 metri, mentre in corrispondenza della battigia saranno ad una profondità che va dai 4 agli 8 metri. L'intervento, assicurano gli esperti, verrà realizzato secondo i migliori standard di sostenibilità e di tutela ambientale. Non genera campi elettromagnetici, come ha precisato il vicepresidente della regione Mirko Carloni, e ci sarà un coinvolgimento sia dei rappresentanti dei tavoli tecnici e ambientali, sia della cittadinanza per illustrare il progetto e definire i dettagli e le zone coinvolte. Ad esempio, sono al vaglio tre siti, Trafano e Cartoceto, per una stazione di conversione al chiuso. Dal punto di vista realizzativo, oggi siamo e diamo avvio a quella che è la fase di concertazione col territorio per, secondo il processo di progettazione partecipata, seguito da Terna per realizzazione delle proprie opere, che si concluderà, riteniamo, nel corso del presente anno. A partire dal prossimo anno sarà avviato l'iter formale di autorizzazione che prevediamo possa concludersi nel 2024 e da questo poi inizierà la parte di realizzazione vera e propria, che sarà sicuramente conclusa entro non oltre il 2029. Il costo dell'intervento? Il costo dell'intervento è stimato in 1 miliardo e 100 milioni.